Dodicesima giornata del campionato di basket, girone di uno, torneo che volge a termine della prima fase e poi ci sarà quella ad orologio. Le quattro gare in programma per questo weekend sono tutti derby. Si inizia Cassino con un match ricco di storia e ricco di giocatori importanti. La Virtus di Cocevettese ospita la capolista Sebastiani Rieti di Alex Righetti e sono previsti duelli su tutti i fronti sul parquet, con Di Pizzo e Visnic sotto le plance, Doia e Grilli in cabina di regia e Traini e Lestini scatenati ai bombardieri del campionato. Mamma mia, butta la pasta! Altro derby laziale è quello tra la Luis Roma e la Metaformia. Entrambi i roster di Paccarì e di Rocco a quota 10 punti in classifica sono le sorprese del girone. Una delle due al termine della sfida si piacerà al terzo posto, posizione in attesa alla vigilia. Chiude il quadro il derby del Palo Enrico tra la Virtus Bava Pozzuoli di Cocevettino Gentile e la Virtus Arecchi Salerno. Seconda forza del campionato di Adolfo Parrillo, i Blaugrana vanno a caccia di conferme i putiolani dopo l'ultimo K-O in casa Luis cercano disperatamente punti salvezza.